bella rega e benvenuti in questo nuovo video oggi saremo ancora qui su minecraft in un'altra mappa horror quindi io direi di iniziare subito questa avventura insieme siete pronti adesso premo questo pulsante andiamo ok sono questi impronti non mi piacciono molto avere questi flash qua così non vorrei mai che ci spuntasse qualcosa di strano sì però qualcuno si poteva anche contenere c'è c'è qualcuno no mi sento un po solo di questa porta qua è già aperta non mi ispira molta fiducia ma più ehi ok la porta non si chiude perché qua non posso passare no meglio che non posso passare così ho una strada in meno da fare diciamo ok dove c'è un vettore ah mi sta invitando a salire grazie mille mi prenderò come un esci da qui e com'è esco scusa ah sono uscito io sto scendo non mi sto bloccando no allora no 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 non voglio dormire che bella faccia che bella in compagnia con i suoi amici ecco il bonus classico classico posto quello di chi ancora devo metterla qui no dove devo mettere ok cerchiamo la porta tanto ok mi sa che qua no 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 non si chiamano più chiave nemmeno cosa ho fatto no 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 non ci credo perché questo perché questo come faccio i gran aiuti no sarrò come faccio c'è la sto bloccata erodono suoni bah e questo reception valore non c'è nessuno Magari era qui Ma se usassi Un attimo la creative Per spaccare questa porta Si Ok ho aperto la porta Sono un genio Questo? Oh si dai Bello 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 C'è questa pedra Dovrebbe essere una porta Però io di horror qui ancora non vedo niente Questo qua è il sensore No Ah magari questo qui È un parkour Ma scusate Una mappa Horror Tutto questo sangue qua Cioè dove può Non spaventa Cioè proprio per niente Quando No Ah questa cosa qui adesso Non dovrebbe fare paura E basta No Giusto? Quindi se io Entro qui Faccio Ah Paura E niente Non è il go No va bene così Ehm Questa qui la cacca Ma se ho sbagliato Non voglio sbagliare ancora Ehm Ho sentito a usare la creepy E io non voglio usare la creepy E non questo mappa Non ha nessun senso Action Questa Queste porti qua Aspettate Forse devo tornare giù Cavolo Ma come torna Cioè Mi sono bloccato qui Ah Ho capito Questo Ho capito Non so No Proprio per niente Sì Ho capito Cosa è tutto questo buio qua Sono fuori Sono fuori Non mi fa uscire C'è qualcuno qui Cioè Non so se Questo Lo so Lo so che tu volevi uscire Ma io uscirò per te Usciamo E vai piano uomo Aspettate la pistola E lo hai Ua 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 Adesso muoio Nooo Mi fai partire da qua Perché Ho saltato lo spawn Ma Quello è dimenticato In volte Allora Ti piccherò Ti piccherò così No No non mi fa male quanta vita c'hai potere del quadro potere del quadro ho mezzo cuore basta non posso portare questa cosa e adesso vado fuori li faccio il culo li faccio ok dove stai butto piccignacolo oh sei qui butto piccignacolo mi fai male eh butto piccignacolo brutto piccignacolo ai 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 ma quanti senti quanti senti quanti senti no troppi 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 sto spammando come un canarino ok la tecnica è scappare e colpire no la tecnica è scappare e scappare ma qua sono morto boom sei morto eh ho avuto paura di me aia 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 sto spammando abbi paura di me io c'ho la tua carne dai oh bravo che muore bel canarino oh è in pacifica buono sto scappando illuminati più fossile adesso attuale ah sono dei quadri bello quello andremo qua ok alziamoci buongiorno eh buongiorno amiche tanto questo bruttissimo posto qua poi buongiorno rotten flash scusa scusa ragazzi va bene così che dove faccio in questo cloud kill fast slow gets up non ci sto capendo niente è finita così no reception qui c'è una macchina cos'è tutta questa cosa bella no non è bella il donkey è chiuso quindi la mappa è finita qui c'è una macchina e ok posso dire la mia questa mappa fa schifo solo per il gameplay cioè per il resto è bello cioè se stai lì da c'è tutta questa cosa qui però non capisco cosa devo fare adesso quindi adesso io faccio la outro qui chiudo in camera come uno psicopatico e e niente è finita così cioè non c'è più niente da fare quindi io vi saluto qui spero che questa mappa vi sia piaciuta perché a me non è che sia piaciuta molto però ci sta l'idea di essere dietro un ospedale dove appena vai fuori giustamente ti trovi degli zombie che giustamente c'è una macchina messa a caso che giustamente c'è una stanza di un ospedale fuori per le famiglie zombie che si vogliono riposare in questo elettro matrimoniale che adesso ovviamente io ci sto saltando sopra tutto giustamente non so quanto poi vi ho detto ma giustamente così quindi per questo video è tutto noi ci rivediamo ad un prossimo video e bella ciao 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 ciao